Salve ragazzi, io sono sempre il vostro AndriGamer e oggi siamo qui in un nuovissimo video. Siamo qui su questo gioco, che si chiama Katsu, che è l'abbreviativo di Clash Arena Subostars. Allora, in questo gioco voi dovrete scontrarvi con delle macchine, dove dovete fare tutti i potenziali, mettere le armi, tutte queste belle cose. E comunque, per alcuni versi è simile a Clash Royale, infatti, però ci stanno anche cose innovative, tipo ci stanno i campionati, e questo è simile a Clash of Clans con le leghe, poi ci stanno, ho sbagliato, qui si possono comprare le scatole con le gemme, poi le gemme si possono comprare, vedete, così, ok, e vi arrivano sempre dei container, a volte anche dagli spazi, noi apriamo quelle ordinarie, che sono quelle omaggio, si può dire, pomello, titano, volano, missile, perfetto, prendi premio, bonus, e adesso se guardiamo un video di bonus possiamo, cioè, se guardiamo un video possiamo aprire questa scatola che ha 5 stelle, quindi non me la lascio scappare. Ok, si è aperto, e ci ha dato questo costo di titano, bene, praticamente vi fa vedere delle pubblicità, in sostanza, alla fine del video, cioè, alla fine del video apriremo anche questa che si sta sbloccando, abbiamo scatola ordinaria, pungiglione, volano, lama, pomello, e basta, prendi premi, perfetto, io li ho accumulati tutti per il video queste casse, qui la vedremo alla fine, allora, voi dovrete sempre potenziare questo veicolo, ah, innanzitutto ne approfitto, qui garaggerà da solo, voi dovrete solo guardare, tra l'altro ho vinto io, però dopo magari non vincerò, se no connessione serve, riprova, questa connessione qua fa, non è molto buona, quindi ci dovremmo adeguare, ok, ci dovremmo adeguare, guardate, comunque adesso facciamo il campionato, ci sono 23 stagioni di campionato, e quindi, cioè, ecco, questo qui l'ho perso perché non ho il veicolo abbastanza forte per competere questi, però voi cosa dovete fare per averlo forte, voi dovrete potenziarlo, però per potenziarlo bisogna avere i pezzi, che non è un problema perché gli escono dalle casse, è un problema poi che per potenziare bisogna avere le monete, e devo ancora accumularne qualcuna per fare qualche upgrade, ci gioco da ieri, però sono già abbastanza avanti, è bello comunque questo gioco, è bello, andiamo, portana, sì, questi qui devo ancora potenziarmi un poco, e mi potenzierò facendo le rottamazioni normali, sì, è bello che io non devo toccare niente, devo solo guardare, è questo il bello di questo gioco, che non si vede in tutti i giochi, adesso mi sto facendo scontro, adesso giustamente, questo qui all'inizio mi frega così, però poi alla fine mi si frega da solo, perché guardate, va alla fine, infatti dopo che è passato un po' di tempo, ai bordi iniziano a dovere dei rulli, e che distruggono le macchine che stanno là, ecco questo è l'ultimo, rottamo 14, dovrebbe essere l'ultimo, se non sbaglio, è l'ultimo infatti, e vi do 4 rottamazioni, sono sempre allo stesso posto, sì, sono sempre allo stesso posto, ah ne approfitto per dirvi che Marco Red 2 non potrà fare video fino a lunedì o martedì, perché, o anche fino a mercoledì, perché ha finito i giga, e quindi non può più registrare i video, vuol registrare però dovrete aspettare il tempo che li carichi, perché adesso usa l'hotspot, che però non è abbastanza veloce da caricare i video. Allora ragazzi, vi ricordo, per avere un nuovo episodio di Crash Arena Turbo Stars, arriviamo almeno a 15 like, una cifra onesta, una cifra abbastanza onesta, e 50 visualizzazioni, quindi 15 like e 50 visualizzazioni, il nuovo episodio di Crash Arena Turbo Stars, vediamo che si è anche, ci hanno dato anche un'altra scatola, andiamo qui, raggiungi 5 per ricevere la corona, la vediamo, vediamo, questa la vinco io, uh c'è tutta la corona, che è il record forse, può essere, però non mi ricordo, ah e queste, queste cose servono per determinare le leghe, infatti queste usano le leghe, mi ha dato un, un, cosa, non lo so perché, io sto al 41esimo posto, come potete vedere, 41esimo, questi sono i record, questi numerini cerchiati sono i record di, eh, mh, cioè, di partite vinte, di rottamazioni vinte, questo è qui, il record, a me il record è 5, che adesso è diventato il 6, il record 6, perfetto, mh, questa è una corona, mh, adesso sono al 39esimo posto nella classifica di legno, però questo qui, eh vabbè, questo qui, questo è un altro mondo, mondo, questo qui mi ha interrotto la serie di vittorio, questo è un altro mondo, ragazzi, un altro mondo, bene, facciamo un'altra rottamazione, pum, 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 ah, io, man mano che potenzio anche la struttura del veicolo, posso aggiungerci più cose, non solo questo lanciarazzi, almeno questa è la cosa che fa più da noi tutti, oh, vediamo, questa qui sta sbloccata, scatola straordinaria, classico, masso, missile, lan e monete, adesso faccio anche un upgrade, questo qui quando costa, eh, questo, vediamo, non lo so, voglio fondere questo, aspetta, questo, nuovo livello che si faccia, mi da più uno di attacco, e, eh, si faccio così, posso fondarlo, non lo so, visto che voglio fare molti upgrade qui, lo fondo, diventato più veloce, errore di nuovo, riprova, ve l'ho spiegato, questo fatto, ve l'ho spiegato, ecco, sta caricando, sta ricaricando, vediamo se sono fatti tutti gli upgrade, eh, si, tutti quanti gli upgrade si sono fatti, è un bene, è un bene, 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 allora io metto, in sblocco, eh, questa, che vedrete nel prossimo video, e adesso io, eh, vorrei di fare, qualche altra rottamazione, giusto per terminare, non lo voglio far diventare più lungo di 9 minuti, o di 10 minuti, vabbè, faccio così, lo termino quando perdo delle rottamazioni, quando perdo una rottamazione, lo chiudo, il video, e intanto vi ricordo, sempre, arriviamo a, eh, 15 visual, e, eh, si, 15 visual, non sto sbagliando, 15 like e 50 visual, giusto, e, eh, uscirà il nuovo episodio di Crash Arena 2 World Stars, eh, innanzitutto, chi non ha visto i video, i video di, venerdì e sabato, è un video a guardarli, perché, eh, ci sono tutti i link in descrizione, so, eh, ho un link sul mio sito, i video del weekend, uh, questa già è meglio, bene, ragazzi, vi ho lasciato con like, quindi, io direi di chiudere il video, ci vediamo la prossima, condividete, lasciate 15 like e 50 visual per un nuovo episodio di Crash Arena 2 World Stars, e iscrivetevi al canale, attivando la campanellina, perché, essendo estate, pubblicherò molti, molti, molti più video in questo periodo, quindi, un buonissimo motivo per attivare la campanellina, per non perdere nessuno, perché, adesso che arriva l'estate, ne caricherò, tipo, uno al giorno, due al giorno, quindi, restate sintonizzati, vi saluto. Grazie a tutti.